In questo video mi rivolgo soprattutto a una parte del pubblico che ha seguito la diretta che facemmo io e Michele Boldrin, nella quale abbiamo provato a discutere delle tesi di Emanuele Severino. Ebbene, questa diretta, che c'è stata più di un anno fa, ha ricevuto vari commenti nei quali una parte del pubblico ha mostrato di essere impreparata in filosofia, di conseguenza impreparata sulle tesi di Severino e anche molto disattenta, perché non ha compreso i motivi per cui c'è stata poca chiarezza espositiva da parte mia e coloro che fanno parte di questo gruppo di persone che hanno commentato in modo inadeguato, hanno frainteso e hanno quindi hanno mal compreso il rapporto di causa ed effetto tra le continue interruzioni che i miei tentativi di chiarimento hanno ricevuto con la poca chiarezza espositiva, e cioè hanno sostenuto in qualche modo che il fatto di essere stato spesso incalzato da varie domande fosse il segno che io fossi poco chiaro, incapace a esprimermi e a reggere un qualche tipo di confronto dialettico, confronto che in realtà non vi è stato. Quella chiacchierata non era stata concepita come un confronto, ma come un modo per chiarire delle tesi. Se fosse stato un confronto nel merito delle questioni che andavano poi a trattare queste tesi, le cose sarebbero andate diversamente, innanzitutto perché ci sarebbero state delle regole ben precise, tra cui l'evitare le interruzioni. Ora, le interruzioni, lungi dall'essere state dipese dalla poca chiarezza espositiva, ne sono state invece la causa perché. Queste tesi sono molto complesse, sono elaborate, sono rigorosissime e esprimono concetti anti-intuitivi, i quali, per essere anche solo chiariti a un livello superficiale, richiedono delle argomentazioni un po' articolate. Quindi interrompere frequentemente qualunque tentativo di chiarimento, aggiungendo poi ulteriori altre domande che a volte portavano poi a deragliare il discorso altrove e che avrebbero richiesto notevoli approfondimenti, oltre a quelli che si stava già tentando di sviluppare, hanno impedito qualunque chiarimento e hanno fatto quindi sembrare l'esposizione del sottoscritto qualcosa di molto inconsistente e inadeguato. Il che in parte è vero, ma bisognerebbe anche comprendere i motivi che hanno determinato questo esito, questa poca chiarezza espositiva. Ora, quindi, dal momento che ci sono diverse persone che appartengono alla parte del pubblico a cui mi rivolgo, convinte invece del contrario, convinte che le interruzioni non abbiano determinato alcunché di quello che ho detto o che addirittura fossero invece causate dalla poca chiarezza espositiva. Tra parentesi, può darsi che a un certo punto si sia generato un circolo vizioso in cui le continue interruzioni, avendo creato la condizione della poca chiarezza espositiva, abbiano poi, attraverso quella poca chiarezza espositiva, indotto ancora di più a produrre altre domande, altre interruzioni. Però, tuttavia, rimane il fatto che anche in questo caso il circolo vizioso non sarebbe dipeso, non sarebbe stato determinato in sé dalla poca chiarezza espositiva, ma sempre da quel tipo di modalità, da quel tipo di dialogo. Quindi, ribadisco, se fosse stato un confronto sarebbe stato molto diverso e sicuramente in quel caso avrei vinto il confronto sulle tesi di Severino, semplicemente perché Michele Boldrin ha mostrato di non averle ben comprese e quindi avrei sottolineato con molta più efficacia e chiarezza i vari errori presenti nelle sue obiezioni, nelle sue eventuali obiezioni, che in parte già si stavano delineando durante quella diretta, ma a cui non c'è stato il modo per poter rispondere, appunto, a causa delle continue interruzioni, o perlomeno non rispondere per come si sarebbe dovuto fare. Ora, quindi, dicevo, siccome molte persone invece sono convinte del contrario e propinano quindi commenti che hanno giudizi, a mio avviso, totalmente errati, propongo questa cosa. Allora, se davvero si è convinti del contrario, io invito tutti coloro che sono sicuri di quanto sostengono a esporre in una diretta nel mio canale o una ricetta di cucina o una qualche loro attività, tipo all'aperto, in cui che ne so, eventualmente vanno a raccogliere funghi, vanno in montagna, e che vengano interrotti almeno tre volte al minuto durante la loro esposizione. Quindi l'obiettivo è cercare di rendere chiara l'esposizione di quanto vanno a sostenere, anche di qualcosa di relativamente semplice, come può essere appunto un'attività all'aperto o meglio ancora una ricetta magari un po' elaborata, un po' che richieda dei passaggi un po' articolati e con continue interruzioni. Ecco, vorrei